Diego Banti è uno dei nuovi volti della Becchieri Piacenza, nuovamente nasta di partenza della Serie B, categoria che negli anni è già giocato e vinto peraltro. Sì, sono molto contento della scelta che ho fatto in luglio, di scendere in Serie B dopo gli ultimi anni di A2, ma di venire in una società ambiziosa come la Palacanestro Piacentina per rivincere questo campionato. Una settimana di lavoro già nelle gambe, com'è la squadra che si sta formando? Innanzitutto stiamo lavorando molto bene, sia con il preparatore che sul campo a livello tecnico, la squadra che si sta formando è una squadra molto valida, ho avuto modo di conoscere i ragazzi, sono tutti ottimi ragazzi prima che buoni giocatori, quindi sono convinto ancora di più che potremmo fare molto bene. Già in questo fine settimana, primo amichevole, primo test di questa nuova squadra? Sì, abbiamo questo primo test, sicuramente contro una squadra molto forte come Mantua, però naturalmente noi dovremmo arrivare e prenderla come un test di allenamento per vedere prima di tutto se le cose che abbiamo messo dentro in questi giorni danno i frutti, se le abbiamo assimilate come vuole il coach, quindi sarà sicuramente un buon test quello di domenica.